Paola Cardullo al termine del match contro la Pomica Salmaggiore, una vittoria per la Pomica Salmaggiore 3-0, un match molto complicato per la Lardini-Filottrano, un match che ti ha visto purtroppo osservarlo anche da bordo campo, non sei potuta scendere in campo per un problema fisico, raccontaci le tue sensazioni da bordo campo. Sì, sicuramente era un match difficile, siamo arrivati a questa partita veramente facendo degli sforzi clamorosi perché siamo arrivate contate con tanti infortuni, con tanti imprevisti che sono successe nelle ultime ore, quindi è stata veramente dura per noi e per tutte le persone che ruotano intorno alla squadra, per la società che sta cercando di fare i miracoli per intervenire e migliorare la situazione, per lo staff che comunque sia cerca sempre ogni giorno di trovare delle soluzioni per poterci far lavorare nelle migliori condizioni possibili, ripeto, per quelle che in questo momento possono essere. Tra l'altro una situazione ambientale anche piuttosto particolare questa sera con un Palace che è stato ammutolito per tutta la prima parte, tutto il primo sette e mezzo, sicuramente questo non ha reso facile la vita anche a chi in campo ha provato a dare tutto. Sì, io devo essere molto onesta e sincera come penso di aver sempre fatto d'altronde, in molti momenti mi sono trovata a fare i complimenti per questo pubblico che ho sempre ritenuto molto caloroso e un pubblico spettacolare. Sono rimasta un pochino basita e anche delusa dall'atteggiamento di oggi perché capisco che potessero avere tutte le ragioni del mondo per aver fatto un sette e mezzo senza un applauso, senza un grido, senza niente, però per noi oggi il loro rapporto era fondamentale e ci è mancato, ci è mancato tanto. Sono molto dispiaciuta di questa cosa, ripeto, posso capire tutto, però noi a maggior ragione in questo momento stiamo provando a fare qualcosa di più con tutte le nostre forze, noi, ripeto, la società, lo staff, tutti quanti e mi sarei aspettata che anche il pubblico lo facesse per noi, insomma, comunque per tutto quello che c'è qua. Quindi questa cosa mi ha fatto un po' male. Assolutamente. Tra l'altro poi nei prossimi giorni arriverà anche Laura Partenio. La squadra va avanti, continua il suo percorso, si fa quadrato, ci si stringe tutti insieme. È proprio questo il momento in cui riuscire a serrare le fila e guardare avanti con fiducia. Sicuramente. Questo è il momento in cui dobbiamo raccogliere i cocci, tra virgolette, cercare di rimetterli tutti insieme il prima possibile, di stringerci tra di noi e di far funzionare le cose. In questo momento abbiamo bisogno di forza, di energia e bisogna che la troviamo da tutto, a partire da noi stesse ma anche da tutto quello che c'è intorno. È difficile, lo sappiamo, non possiamo negare che è un momento di difficoltà, ma non dobbiamo trovare nessun tipo di alibi perché sennò dalle difficoltà non si esce mai. Per uscirne bisogna solo andare avanti, testa alta e fare ancora di più di quello che si è fatto finora. Grazie Paola. Grazie a voi, ciao.